Nella quattordicesima gara del campionato di Serie C FIPA valida per il girone D, la Promoball Sanitars esce sconfitta dal campo di crema contro la Enercon Volley 2.0 con il risultato di 3-1 per le padrone di casa. All'inizio del primo set la Promoball Sanitars parte con Papa opposta a Giacomini in ricezione, Turina e Emiliojkovic come attaccanti laterali, Piantoni e Gannar al centro con Bertoletti libero. Giacomini è la prima a mettere giù palla per le Fleresi, complici tre errori al servizio dell'avversario e il punteggio resta in sostanziale parità. Qualche disattenzione di troppo da parte delle giovani bresciane permette però un allungo delle cremasche. E arriva il primo timeout di Taramelli sull'8-4. Con un colpo di astuzia Emiliojkovic riporta il servizio in casa Promoball sul 10-5, con Papa al servizio e una Emiliojkovic incontenibile, le Tigri di Flero si fanno sotto fino al 12-10. Sul 15-10 Interamelli innesta il doppio cambio con Basalari per Papa e Di Giulio per Giacomini. Sul 17-14 il coach ospite richiama nuovamente le ragazze alla panchina. La squadra in campo purtroppo non gira e sul 20-14 tornano in campo Papa e Giacomini. Subito dopo sul 22-14 Turina lascia spazio a Zanetti. Il lungo turno in battuta di Ginelli dell'Enercom si ferma solo con un suo errore sul 23-15 ma ormai Crema ha in mano il parziale che termina 25-17. Il secondo set inizia con la stessa formazione ma l'andazzo non migliora. Crema scappa via subito anche grazie al servizio potente di Pinetti che la porta sul 10-3. Zanetti suona la carica ma gli errori sono tanti. Bertoletti nel frattempo lascia spazio a Salvetti. Crema però non molla un colpo devastante sia al servizio, ancora Ginelli fa male alla ricezione flerese, che ne attacco. Sul 24-12 Taramelli effette il doppio cambio con Di Giulio per Giacomini e Turina per Papa. Il divario di punteggio tra le due formazioni è troppo ampio e il set termina 25-12. Il terzo set sembra dare speranza alla gara della Promobol con Piantoni che aggredisce al servizio sul 2-5. Le Bresciane macinano buon gioco e inducono le ragazze di Crema all'errore. Il timeout del coach locale prova a riportare in gara le cremasche ma Promobol con ganna da servizio non sbaglia un colpo e si porta 7-13. Le locali non ci stanno e recuperano punti prima arrivando sul 13-16 e poi sul 16-18. Il mister locale pretende di più dalle sue e chiede il secondo timeout sul 16-20. Ormai sembra che le Fleresi abbiano in mano il parziale sul 18-23 ma le cremasche sono maggiormente concrete e si avvicinano tantissimo arrivando a 23-24. Solo un errore al servizio consegna il set alle Tigri Fleresi per 23-25. Il bellissimo gioco espresso nel terzo set dalla Promobol Sanitars però diventa opaco nel quarto e ultimo set nonostante la sfida continui punto a punto. Le Fleresi partono sotto col 2-0 ma con un buon servizio la situazione torna in parità. Le due squadre si alternano nella conduzione del parziale con ottime azioni combattute. Sul 9-9 Crema mette la freccia e Promobol soffre. Sul 12-9 con Zanetti che abbandona il rettangolo di gioco lasciando spazio a Turina. Nonostante un buon andamento nella ricezione l'attacco delle Tigri non riesce ad essere efficace anche a causa del buon muro messo in atto in questo parziale da parte delle cremasche che si portano 17-14. Promobol prova a reagire ma l'errore al servizio di Giacomini consegna set e partita a Crema.